ben ritrovati ragazzi anche questa settimana ci esercitiamo con l'utilizzo di doppie squadrette tracceremo delle rette orizzontali parallele tra di loro degli archi di circonferenza quindi niente di nuovo e delle linee in parallele inclinate di 45 di 30 perché queste lette a differenza esercitazioni precedenti non sono inclinate in maniera causale ma formano con diciamo una retta orizzontale con la retta orizzontale della squadratura un angolo di 45 gradi e un angolo di 30 ok ora però prima di passare proprio alla spiegazione dell'esercitazione grafica dei passaggi ci tenevo a riprendere appunto le vostre squadrette e a concentrarmi sul concetto di angolo questo lo dico perché quando io dico che questi sono appunto due triangoli queste squadrette mignon ma sono identiche alle vostre sono più piccole ma gli angoli non diciamo non cambiano quando io parlo appunto di 90 gradi 60 gradi 30 gradi e 45 e 45 mi rendo conto che forse per alcuni di voi il concetto di angolo non è ben chiaro e facciamo utilizziamo il nostro mino bruno per spiegare appunto un concetto di angolo bruno percorre un percorso definisce un percorso e cambiando sempre traiettoria ok come vedete ha cambiato traiettoria diverse volte bruno quindi qui 1 2 3 4 5 6 7 ok ha cambiato diciamo il suo percorso per sette volte questi diciamo nei momenti in cui questo si chiama in maniera tecnica geometrica si chiama proprio una linea spezzata sto è un angolo questo è un angolo questo è un angolo anche questo anche questo anche questo anche questo anche questo in realtà come vedremo sono angoli anche questa da quest'altra parte spiega quindi anche questo è un angolo anche questo è un angolo ma spieghiamoci bene che in che cosa dobbiamo come possiamo definire un angolo in particolar modo noi abbiamo già spiegato che una linea una retta e non ha un inizio non ha una fine una una semiretta a un inizio non ha una fine un segmento a un inizio una fine l'angolo si definisce appunto date due semirette che hanno la stessa origine l'angolo è proprio l'area definita da due semirette che hanno la stessa origine è chiaro l'area lo spazio definito dal da due semirette ripeto l'angolo è lo spazio l'area definita quello che viene a definirsi da due semirette che hanno la stessa origine questo è il vertice questo è un angolo mentre questo pure sempre un angolo questo è un angolo interno questo è l'angolo esterno in realtà è come se le due semirette definissero proprio due angoli per misurare poi gli angoli utilizziamo per esempio il goniometro ok questo è uno strumento che spero abbiate visto alla primaria però il discorso diciamo nel disegno tecnico è proprio quello di non usarlo questo strumento abbiamo per esempio un due semirette definiscono un angolo però noi vi dico subito che quelli gli angoli che non ci interessano con quindi contenuti nelle nostre squadrette è chiaro ora andiamo a vedere quando le due semirette praticamente combaciano allo stesso origine sono sovrapposte definiscono un angolo giro che misura 360 gradi mentre quando le due semirette sono praticamente consecutive cioè che vuol dire hanno un origine però praticamente definiscono se appartiscono e vanno proprio a definire la stessa traiettoria si definisce un angolo piatto ovviamente vi rendete conto che qui abbiamo 180 gradi che è la metà di un angolo giro da quest'altra parte abbiamo sempre 180 gradi ok mentre quando le due semirette eccolo qui diciamo la la una semirette perpendicolare all'altra forma un angolo retto di 90 gradi ovviamente che cosa vi dico la metà di un angolo di 90 gradi quante 90 diviso 2 e 45 è chiaro quindi 45 gradi questa squadretta questa che costituisce un triangolo esoscele ha proprio un angolo retto vedete questa è la semiretta e questa è la semiretta formano scusatemi questa è una semiretta che hanno lo stesso origine qua quindi questo è un angolo di 90 gradi vedete per quindi uno è perpendicolare all'altro mentre questo angolo è di 45 proprio come questo se lo vedete vedete facciamo da quest'altra parte questa squadretta in realtà come dicevo metà di un quadrato d'accordo quindi questa ci serve per tracciare delle linee inclinate a 45 gradi mentre questa questo angolo è di 30 questo è di 60 e questo è di 90 il tutto si traduce una volta definiti gli angoli ragazzi in un triangolo abbiamo tre angoli infatti il triangolo viene proprio da quello tre angoli diciamo la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 questo per tutti i triangoli qualsiasi triangolo qualsiasi forma disegnata in triangolo la forma la somma interna degli angoli è 180 quando noi abbiamo una retta ok e vogliamo tracciare una retta inclinata a 45 gradi rispetto a questa basta prendere questa che è qualche agli angoli di 45 me la appoggio va ad essere allineata per bene ovviamente per potermela spostare mi metto questa supporto e posso tracciare ovviamente la retta 45 o da un lato dall'altro qui a tutti e due gli angoli quindi eccolo qui la tiro fino a giù questo è un angolo di 45 gradi e questo questo angolo sarà 180 meno 45 gradi è chiaro 135 quindi a questo punto vi renderete conto che invece data una retta e se voglio tracciare la retta inclinata a 30 gradi devo utilizzare questa altra squadra e quindi questa andrà sopra ok quindi questa andrà sopra poi ovviamente voi potete pure allinearvi questa come volete voi poggiare questa sopra e tracciarvi la retta d'accordo se volete farla scendere basta metterse mettervela da questa parte qua farla scorrere scusatemi deve essere precisa ecco qui farla scorrere dopo di che ve l'appoggiate sopra e vi tracciate quindi questo è un angolo di 30 d'accordo questo ovviamente sarà 180 meno 30 e questo è facile 150 mentre da quest'altro lato se io mi traccio questa ragazzi ovviamente questo sarà 60 gradi d'accordo perché se lo utilizzo questo angolo qua è 60 se utilizzano quest'altra parte è 30 questo perché lo dico perché voi vi troverete sempre a tracciare queste rette ovviamente la maggior parte delle volte voi le traccerete rispetto alla squadratura quindi io se la metto così ragazzi è proprio semplice da capire che data una retta orizzontale in questo modo se io traccio questa retta è perpendicolare rispetto a questa diciamo orizzontale mentre da qui scusatemi ma io ho un limite della tavola mentre da quest'altra parte vedete d'accordo vedete da quest'altra parte purtroppo la mia squadretta è quello che è avrò 60 gradi ok quindi questo è 90 e questo è 60 ovviamente ragazzi queste cose dovete saperle proprio perché diciamo si riprenderanno nel corso degli anni fino ad arrivare in terza quello che dovete capire però è che solitamente una volta tracciata la retta inclinata a 45 poi potete tranquillamente procedere come sempre io vi farò vedere allineando per tracciare le parallele allineando ad una retta mettendoci il nostro binario e continuando cioè voi potrete utilizzare le squadrette tracciando sempre le linee a 45 in questo modo però vedete se avete la squadretta piccola non ci riuscite ok quindi semmai vi vi me la mettete qui utilizzando i trattini quindi vi garantite che sia oppure anche questa se l'avete visto che tracceremo prima questa ecco qui e poi dopo appoggiate qui mi traccerete linee a 45 gradi ok parallele ma nel momento in cui non ce la farete più basta modificare il sistema e andare a continuare con il sistema delle rette parallele ora basta così perché troppa fioria fa male iniziamo dunque la nostra esercitazione grafica prendendo appunto facendoci da prima e le rette orizzontali accordo prima cosa però tracciamoci praticamente la retta verticale aiutandoci sempre con i trattini prestampati ricordo ragazzi di temperare molto spesso le diciamo le vostre matite perché mi accorgo che a volte il tratto spesso deve far diventare i vostri disegni molto più disordinati ok a questo punto questo lato della squadra sulla misura 21 che cosa facciamo prendiamo la squadretta mettiamoci lo 0 coincidente con questo punto e cento di assegnare tanti punti equidistanti un centimetro viene ad arrivare a 21 quindi siamo c12 mi raccomando cercate di fare dei segni molto molto piccoli a tale potete fare anche all'interno maniera tale che vengono inglobati direttamente nella vostra linea che andrete a tracciare per ogni punto ci andiamo a tracciare una retta orizzontale quindi come sempre ho preso la squadretta più grande proprio per tracciare la retta 45 poi vediamo quindi allineiamo alla squadatura attenzione metterci un po più all'esterno in maniera tale da non comprendere la parte arrotondata della nostra squadretta allineiamo per bene la retta orizzontale posizioniamo il nostro binario ok e poi vedete maniera tale da farla scorrere e tracciamo per ogni punto individuato un aretto orizzontale fino alla linea che abbiamo tracciato quindi di che mi divide a metà il nostro foglio bene ragazzi a questo punto da ogni punto individuato su questa retta verticale d'incontro quindi retta orizzontale qui dove si ferma partirà invece una retta inclinata a 45 gradi verso l'alto chiaro quindi così così come faccio a tracciare le rette a 45 gradi ce lo siamo detto prima allineare ad una delle linee che abbiamo tracciato noi orizzontali tante parallelano quindi basta allinearle a questa per esempio metterci questa da sopra ed ecco qui lo sposto un po più qua che partendo da questo punto forse non so se si vede ecco qua da questo punto mi traccio le linee inclinate a 45 in cui io mi stanco in questa maniera smonto il sistema la retta inclinata ce l'ho basta fare la parallela è chiaro quindi posso anche utilizzare quest'altra a questo punto parallela perché perché devo fare tutte parallela queste basta allineare questa e poi procedere come sempre cioè allineo a questa retta posiziono questi il mio binario e e tranquillamente traccio tutte le rette che mi servono ovviamente sta un po a voi poi centrale in maniera tale che ma nel momento in cui il vostro sistema non funziona più nel senso che la squadra è piccola oppure non riuscite a tirare tutta la linea basta spostarvi bene ragazzi come vedete in realtà il disegno è molto semplice ora dobbiamo tracciare dagli stessi punti delle rette però inclinate a 30 gradi ok dobbiamo utilizzare questa squadretta ma sempre scusate esclusivamente noi lo potremmo fare per la prima retta proprio perché dobbiamo sfruttare la sua angolazione quindi come sempre io posso mettere la squadretta qui quindi allineare devo fare rispetto a 30 gradi rispetto sempre a questo orizzontale quindi ragazzi io la faccio rispetto a questa cioè mi allineo a questo o una qualsiasi letta questo ma anche mettendoci praticamente utilizzando i due trattini senza tirare la linea però la linea a destra e sinistra e mi dirò ho chiaro vado da qui inizia a tracciarmi le linee chiaro deve essere un vostro sistema mettiamoci sotto d'accordo quindi all'ina devo utilizzare soltanto da questo lato perché utilizzando questo avrei delle rette parte che salgono verso sopra ma della retta 60 gradi inglinata 60 ovviamente vedete è corta però a me non interessa prendiamoci un punto qualsiasi accordo importante secondo me che ragazzi garantirvi che la potete tracciare tutta perché altrimenti come nel mio caso è rotta quindi prendo la faccio partire da qua devono partire tutte a questo punto qua quindi la traccia ok una volta che l'ho tracciata io potrei continuare così lo devo fare per tutti i punti d'accordo io potrei tranquillamente continuare così per un certo punto basta continua mi attendo che anche comodo e tracciandomi quindi allineando a questa retta che ho tracciato perché so che di 30 gradi appoggio questa e poi posso partire anche da qui quindi tiro che tanto devo tracciare tutte rette parallele quindi allineo a questa perché so che di 30 gradi d'accordo mi poggio il mio binario e poi diciamo per ogni punto mi vado a tracciare la retta fino a qui bene ragazzi questa era proprio per introdurre le rette inchinate la prossima esercitazione che diciamo vi farò vedere appunto come tracciare anche quelle da 60 ma fondamentalmente sarebbe soltanto sfruttare a quest'angolo qua quindi io pure se lo volessi volessi fare basta ne faccio soltanto una perché lo volesse fare ma l'esercitazione si ferma qua ma se io volessi tracciare anche quella 60 basta prendermi questo angolo ragazzi che io se la ruoto rispetto a questa orizzontale diventa questo ok non mi conviene mi conviene da quest'altro lato mettermi la squadra così eccola qua vedete posso tracciarmi potrei tracciarmi da questo punto anche quella 60 una volta tracciata non l'ho fatta fino in fondo perché la squadra era rotta quindi potrei ma non lo fate questo passaggio questo è solo per farvi vedere la squadra rovinatissime e tracciarmi anche quelle a 60 io nell'esercitazione non me l'ho messa però questa e tracciarci gli acchi di circonferenza puntando sempre qui quindi il compasso rimane viene puntato sempre nello stesso punto che ricordo mettetevi uno spessore quando quando tracciate quando tracciate gli archi puntate qui aprite il compasso qui di un centimetro quindi fino al primo punto non deve prendervi la misura perché avete già tracciato le rette e quindi tracciate il primo arco aprite lo fino al secondo punto e tracciate l'arco e così via via ognuno di voi può scegliere può anche continuare fino alla fine fino a sopra però l'unica cosa che vi dico ecco appunto che io mero fermata perché non tutti il compasso hanno un'apertura attenzione a non fare le doppie circonferenze ma la possibilità di un compasso che si apre in questa di questa dimensione voi arrivate fino ecco qua questo è l'arco più grande perché dopo di che si esce fuori questo 14 dopo di che andate fuori mi fermate chi può chi ha il compasso lo permette può anche continuare si deve fermare però qui ok scegliete voi dove fermarvi dove continuare d'accordo quindi esercitazione si ferma ed è personale anche in questo caso vedete io mi sono anzi quello tracciato uno però poi mi sono fermata tracciate dove volete voi chiaro l'importante è tracciarli e tracciati in maniera corretta dopodiché passate il colore ovviamente vi ricordo partire da anzi partire da questo lato qua che più complicato ok lasciate scegliere i colori che volete dopodiché per completarla volete aggiungere quest'altra parte potete riprendere gli stessi colori e riportarli fate respirare i vostri segni col bianco da qualche parte e così via d'accordo buon lavoro a ciao 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 ciao